Approvata la legge sulla leale collaborazione, ma con il centro-sinistra che porta a casa cinque risultati. Il primo, quella a rivedere con un impegno alle graduatorie sulla legge 40 che interessano tantissimi comuni per opere importanti di questi territori. Secondo, un contributo importante da parte della Presidenza del Consiglio per il Comune di Castiglione a Casauri per la riapertura dell'abbazia di San Clemente a Casauri, che tutta l'estate scorsa è stato chiuso e è stato chiuso anche quest'anno. Un impegno a vedere il testo di legge presentato dal collega Pepe, il testo di legge riguarda lo stoccaggio del vino, ancora il ripristino del capitolo per i fondi e le associazioni che si occupano dei disabili, parliamo della legge 97 del 99 e poi a quello di calendarizzare la proposta di legge della consigliera scoccia che ha tutti i firmatari del centro-sinistra, che riguarda le parrucche dei malati oncologici, quando prima da riportare in Consiglio regionale. Sono questi gli impegni per cui il centro-sinistra ha ritirato centinaia di emendamenti e ha permesso l'approvazione della legge sulla leale collaborazione.